Ancora una volta possiamo dire che in Italia la parità di genere sembra essere più predicata che praticata e la responsabilità è di tutti, nessuno può sottrarsi a questa logica che va cambiata con un nuovo approccio culturale, sperando nella nuova generazione. Io sono convinto che l'iniziativa odierna di giornaliste italiane sia innanzitutto un atto di coraggio, non contro ma per. Credo che serva ad invitare molti di noi anche alla riflessione su condotte poco appropriate. Le giornaliste hanno tutto il diritto di percorrere le stesse tappe di noi uomini, i pregiudizi, l'ostracismo, una cultura ancora fortemente legata a valori non condivisibili purtroppo ha fatto il resto. Quindi sono qui non solo come giornalista ormai da oltre 45 anni, giornalista pubblicista, ma sono qui come uomo di governo per dare atto alle donne che hanno messo su questa iniziativa, dare atto di un gesto di grande coraggio che va sostenuto e che va incoraggiato anche da chi politicamente si riconosce in aree diverse o ha ritenuto finora di avere una sorta di preclusione nei confronti di questo elemento di novità.